Abbiamo ricevuto la notizia ieri mattina, era un incontro sindacale già calendarizzato perché noi siamo già in solidarietà dell'anno scorso e improvvisamente dopo alcuni dati che ci hanno dato di negatività del percorso dell'azienda in questo ultimo periodo ci hanno detto che chiudevano la redazione ma lasciavano in vita il giornale. E' notizia di qualche ora fa che il direttore si è esposto e ha detto che il giornale sarà fatto dai frati. E' inutile dirvi il nostro strazio e il nostro dolore perché noi siamo stati accanto a loro in tutto questo tempo aiutandoli in tutto e per tutto e adesso ci troviamo in questa situazione dolorosa proprio a Natale. Abbiamo deciso di occupare questo posto perché questa è casa nostra da sempre. Non è giusto che così in tre minuti uno ci può dire che questa non è più la nostra casa e che questo non è più il nostro giornale. E' inammissibile. Continueremo questa lotta fino all'ultimo senza esclusione di colpi perché secondo noi è giusto tenere la schiena dritta.